Ancora buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini in studio. Coda per traffico intenso, siamo sulla 1 tra Calenzano e il Vivi A1 direzione Bologna. Sempre sulla 1 ma in direzione Firenze, tra Rizzo e Valdarno, rallentamenti per un veicolo fermo. Spostiamoci in A11, personale su strada per lavori tra Monte Catini Terme e Pistoia in direzione Firenze. In A12, ricordo chiuso fino alle 18 di oggi, lo svincolo di Colle Salvetti in entrata e in uscita per lavori in direzione Rosignano. Ancora in A12 tra Colle Salvetti e Rosignano c'è un controllo di velocità direzione Rosignano Sud. Torniamo in A1, segnalato al momento un incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma, un tamponamento. Ci fermiamo per il momento grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio a dopo. Grazie a tutti.